Musica Oggi faccio di nuovo un video haul ed è un video haul riferito al mese di gennaio visto che avevo detto che cominciavo a fare questi video haul mensili ricapitolativi ricapitolativi, yay e appunto adesso faccio quello di gennaio visto che siamo comunque ai primi di febbraio partendo dal reparto beauty ho comprato questo fondotinta in realtà mi trovavo abbastanza bene con quello che avevo prima che era dell'Iva Garden che è un fondotinto liquido e ho comprato questo qua, questo Stay Matte di Rimmel non so perché l'ho comprato in realtà ho seguito l'istinto ha una consistenza un po' strana è molto 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 cremoso riesco a farvelo vedere ha una consistenza molto cremosa risulta un po' pastoso però io ne metto poco e lo lavoro bene col pennello e mi sembra che il risultato non sia ce l'ho addosso ora sì, l'unica cosa è che magari quando esagero sembra un po' effetto pasto perché comunque è abbastanza coperente come tipo di fondotinta però devo dire che al momento non mi dispiace poi ho preso un eyeliner della Pupa che però in questo caso in genere vi faccio vedere le cose che ho comprato che mi sono piaciute non tutte ma quelle che mi sono piaciute particolarmente però questo volto voglio farvi vedere qualcosa che proprio non mi è piaciuto per niente che è questo eyeliner di Pupa Professional Liner Vamp e mi pare che sia della nuova collezione o qualcosa che mi sembra dedicata ai mascara e ai eyeliner c'erano due tipi di eyeliner mi pare sì, due questo che è quello con il pennellino piccolino proprio il pennellino sottile e l'altro che era invece quello con la punta la spugna fissa diciamo io ho provato a prendere questo perché non me lo so dare il eyeliner però ho provato vari tipi di pennelli diciamo sia quello angolato che quello magari appunto quello con la punta rigida che tra l'altro vabbè era di MAC mi sono trovata benissimo l'ho riusata la seconda volta era già secco quindi vabbè e ho deciso di provare con il pennellino peccato che a parte che la prima volta che l'ho messo magari l'ho messo male io però mi è andato un po' dentro l'occhio e mi ha bruciato tantissimo la seconda volta che ho provato a metterlo che tra l'altro ce l'avevo addosso nel video precedente forse ho fatto un po' la riga spessa e io ho la palpebra leggermente cadente davanti quindi praticamente l'eyeliner mi si è stampato sopra alla palpebra ma non appena l'ho fatto che era ancora fresco e quindi mi si è stampato nel corso della serata mi sentivo sempre le palpebra come si dice impastata incollata ed era perché praticamente l'eyeliner mi si era tutto appiccicato sopra io avevo la riga del eyeliner soprattutto appiccicosa tutto una cosa fastidiosissima è veramente brutta quindi non so se sia perché magari il mio tipo d'occhio ho fatto la riga troppo spessa ma comunque la formulazione cioè no per me proprio non mi piace a questo proposito se avete degli eyeliner da consigliarmi o un metodo per mettere l'eyeliner perché io al momento ho provato anche col penerino piccolo ed era quello che mi era trovata meglio iscrivetemelo nei commenti che magari provo a a darci un occhio grazie ho preso questa ho preso per i saldi che è questa palette Kiko della collezione color impact che è così in realtà io avrei voluto un altro colorazione ma era finita era sold out e quindi ho preso questa qui che per 8 euro mi pare tipo la metà era sugli 8 euro direi che sono degli imprettibilissimi ma hanno dei colori ovviamente super pigmentati e sono super shimmer tra l'altro quindi vediamo se allora questo il rosino è carino anche tutti mi sembrano uguali in realtà però finiscono le dita questo top sono super super shimmer e scrivono tantissimo che è questo qui e anche questo è bello e questo adesso riscrivo sul dito che ho già usato è super super matte è una cosa incredibile è super opaco proprio frigide adesso mi sporcherò tutta la mano ma è è pigmentatissimo e super nero è veramente bello che poi non è proprio nero in realtà è più grigio estremamente scuro comunque sì questa palette mi piace tantissimo penso ci sia ancora in sconto quello che si trova insomma perché era la collezione natalizia mi pare era quella con cui di cui c'erano anche gli smalti glitterati che tra l'altro ho comprato anche altri due colori però non li ho messi nelle haul perché alla fine dei conti non mi hanno entresesmato così tanto come quello bianco rosa quello tutto glitterato che avevo fatto vedere nella video world del mese di dicembre fine l'ultimo prodotto per la categoria beauty diciamo è stato il Clarisonic che è un po' una spesona però era da un po' che lo volevo adesso lo faccio vedere ma vabbè comunque presumo che lo conosciate ma ormai tutti ed è questo agggino super tecnologico per la polizia profonda della pelle in realtà l'ho comprato a dicembre cioè mi è arrivato proprio i primissimi di gennaio tipo il primo il 2 addirittura il primo no la festa il 2 addirittura perché ho usufruito di uno sconto del 20% che mi era mi era arrivato come sul cellulare come codice sconto per il possessore della carta black e quindi invece di pagare 140 erotti l'ho pagata 120 erotti che è comunque tantissimo per un agggino per la polizia però io non sono una che tiene molto mi tengo molto dietro diciamo alla pelle all'idratazione alla polizia e quindi volevo qualcosa di veloce che mi aiutasse a farlo insomma e questo veramente su questo non ho niente da dire perché in un minuto ti fa la polizia profonda della pelle lo faccio uno o due volte al giorno dipende diciamo se mi trucco o non mi trucco generalmente lo faccio una volta al giorno alla mattina non saprei se consigliarlo o no onestamente perché io non ho particolari problemi di pelle e non è che cioè non è che ho visto il miracolo e vabbè non è che mi aspettavo il miracolo però comunque la mia pelle la vedo che è più è più pulita nel senso che comunque tutte le pellicine che magari avevo sul naso perché avevo la pelle un po' secca me le toglie via mi pulisce in profondità la pelle quando ti trucco tant'è che quando io prima mi strucco poi passo il clarisonic e le testine sono nere e quindi comunque su questo la pulizia profonda senza troppi sbattimenti perché non è che stai lì a usare prodotti su prodotti passo il il cleanser il prodotto per pulire la pelle che al momento sto usando uno che avevo trovato in una glossy box e e poi passo il clarisonic sopra con la testina per le pelli sensibili quella che c'è in questo momento quella che era in dotazione sto pensando se prendere quella per le pelli delicate ma ancora non sono sicura anche perché per le altre testine ho letto recensioni un po' contrastanti ad esempio volevo prendere quella per i pori dilatati perché io sul naso ai pori dilatati mi dà fastidio ma ho letto che è molto aggressiva su certi tipi di pelle e già questa volta tende a darmi fastidio nella zona delle guance quindi non vorrei andare a peggiorare le cose perché ho letto dei commenti un po' ghiaccianti però io mi sono trovata abbastanza bene l'ho usato per un mese tutti i giorni praticamente e mi trovo bene proprio come pulizia profonda della pelle per curare i miei estetismi più profondi non so se sia il caso insomma un'altra cosa che vi faccio vedere che non c'entra niente con categorie varie è donne con le curve di cui ormai ho già parlato tantissimo però è uscito il secondo numero a gennaio a febbraio a gennaio oddio quando è uscito? a gennaio si mio dio gennaio febbraio e quindi si è ovviamente una delle mie cose preferite quindi volevo farvelo vedere io in questo numero vi spiego come realizzare un accessorio per carnevale e come sempre tutte le informazioni per come abbonarsi come comprarlo dove trovarlo bla 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 ve la lascio nell'info box mi raccomando dateci un occhio passando agli accessori mi ha contattato Martina che è una ragazza che fa bijoux fatti a mano e mi ha chiesto se volevo ricevere un suo braccialetto mi aveva già mandato in passato delle sue creazioni che ho già mostrato sul blog e quindi niente io ovviamente ho detto di sì perché mi piacciono le sue cose e mi ha fatto scegliere tra la nuova linea di braccialetti fatti con il pizzo e io ho scelto questo così alla molla quindi rimane rigido il bracciale sembra quasi un polsino nella maglia carino con i cuoricini capendolo e il suo negozio si chiama il bazar di Tati se volete dare un occhio comunque al solito vi lascio i link sotto poi un'altra cosa che ho comprato che in realtà non saprei dirvi dove trovare perché io ho comprato da una mia amica è questa collana che è vediamo se qualcuno lo riconosce che cos'è? è che cos'è? è un ciondolo di Sailor Moon sono una fan di Sailor Moon e li avevo visti quando sono andata a Lucca c'era praticamente la confezione con gli otto scettri mi pare delle varie gualiere Sailor e i tre tre o quattro di Sailor Moon e però non li avevo comprati perché insomma a fine che me ne faccio di otto pendenti di otto ciondoli quindi non li avevo presi però qualcuno ha avuto la mia successione perché questa mia amica li ha comprati però lei non se ne faceva niente su ebay mi pare li aveva presi lei non se ne faceva niente di tutti quindi li ha venduti e io ne ho caparrato uno e mi piace tantissimo ancora anche se ancora non l'ho avuto la cosa di metterlo la cantina l'ho messa io però il ciondolino che alla fine non è neanche tanto grande nel senso è portabilissimo secondo me non si capisce neanche che è una cosa di Sailor Moon anche se a me non mi fregherà niente in realtà è quello della terza serie è quello non mi ricordo come si chiama in italiano Heart Moon una cosa così però sì carinissime da Asos cioè io adoro Asos casomai non si fosse capito io adoro Asos ha la sezione gioielli nella sezione ha la sottosezione gioielli nella sezione curvi cosa vuol dire ciò? vuol dire che sono tutti più larghi sia come braccialetti che come collane ma soprattutto come anelli e quindi io riesco a trovare cose come questa ovvero anelli non adattabili non di quelli che devi adattare che vabbè grazie proprio anelli finiti con la mia iniziale sopra cioè ma quant'è figa sta cosa tamarrabessia ma fighissima cioè tipo sigillo capito e in più riesco a metterlo nel medio che vabbè non è molto che non le devo far vedere oppure anche nell'indice cosa che in genere con anelli normali non riesco perché ho le dita cicce l'ultima cosa che vi faccio dare di accessori mi sono state spedite dal sito semi dress probabilmente avete già visto in miliardi di video di youtube sono queste aziende cinesi che ti spediscono roba fondamentalmente a me mi hanno contattato mi hanno dato un budget di 30 euro in cui dovevo 30 dollari in cui dovevo far rientrare anche le spese di spedizione perché questo a differenza di molti siti ha le spese di spedizione a parte ed è quello che ti frega perché magari l'oggetto costa 2 dollari 3 dollari le spese di spedizione 20 per dire io ho spettato due mesi per ricevere la roba io ho fatto l'ordine perché comunque mi hanno dato un buono quindi io ho fatto l'ordine proprio a novembre tipo e mi è arrivata la roba a gennaio due mesi ci ha messo e vabbè che in mezzo c'erano le feste di natale quindi probabilmente questo ha rallentato molto tutto la cosa positiva è perché comunque il pacco era tracciabile la cosa positiva è che comunque hai la possibilità di aprire contestazioni tra virgolette ordine per ordine quindi non è che devi cercare mail numeri cose da contattare io semplicemente dal form dell'ordine c'era il modo per contattarli io gli ho scritto dicendo che il pacco non mi era ancora arrivato e loro mi hanno risposto nel giro di un giorno dicendomi di aspettare ancora un paio di giorni per vedere se arrivava e che comunque avrebbero mandato avanti le ricerche con il numero interno loro e poco dopo cioè tipo dopo 3 o 4 giorni comunque loro mi hanno scritto dicendomi che il numero risultava in consegna effettivamente dopo un giorno ho ricevuto la roba quindi comunque come servizio di clienti sono stati abbastanza presenti però io ho spettato due mesi per ricevere la roba non ho ricevuto dogana e la qualità mi piace comunque quello che ho ricevuto mi piace parecchio mi piace proprio tanto però i tempi sono molto lunghi magari è stato solo una cosa del fatto che c'ero mezzo dicembre però ma comunque cosa ho preso la prima cosa che è quella che mi è piaciuta assolutamente di più è questa collana che è un po' tamarra è bellissima sono un po' fissata con le cose tamarre però praticamente è non so se riesco a fargliela vedere è una testa di cervo bellissima dorata ce ne è una pancchialata bella 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 questi orecchini anche questi mi piacciono tantissimo magari ve ne faccio vedere uno solo giusto per sono abbastanza lunghi molto luminosi con a lobo con il cono borgia tipo e hanno vari colori infine ho preso diciamo la cosa principale che è questa borsetta ha la catena regolabile cioè regolabile si può portare a spalla oppure tirarla al massimo per farla a tracolla anche se a me in realtà che si veda qua non piace tantissimo quindi sto pensando magari di aprirla e di metterci dei moschettoni in qualche modo per chiuderla tipo così dalla qua questa parte così da questa parte in modo che qua non ci rimanga niente adesso vedo magari di allungarla anche un po' per poterla mettere a tracolla più agevolmente però è molto bella mi piaceva tantissimo la fantasia questa fiorata così e anche come materiale vabbè ovviamente è pelle vera umana in questo senso è palesemente finta ma che non l'avrei voluto ovviamente e qui non è rovinato però qualche segnetto insomma questo si apre così dentro non è foderata però ha la taschina è anche comoda e mi piace parecchio molto carina scarpe e a gennaio mi sono saputa che non mi sono proprio contenuta ho preso queste qua da asus che ancora non ho indossato perché non mi sono arrivato cioè si mi sono arrivato da un po' però non ho ancora avuto l'occasione diciamo perché questo tempaccio del cavolo mi faccio delle orsole sono mocassini di quelli belli ciompi del colore che ormai sono ossessionata perché pensi di aver comprato tutto quello che prendo lo prendo di questo colore borgogna vinaccia e si sono normali le ho comprate in saldo mi pare che fossero al 40% in meno una trentina d'euro insomma mi piacciono parecchio sono comode anche se ripeto ancora non le ho usate tutto il giorno le ho solo provate un paio di volte poi ho preso queste qua che hanno le laccette adesso sono sleccate anche qua me ne faccio vedere una sola queste sono Miss Alfire e io le adoro ne ho anche un altro paio bellissime anche quelle queste le ho comprate direttamente dal sito scontate da 70 a 50 sterline una cosa del genere e sono bellissime bellissime con il fiocchetto in più sono comode perché hanno il piatto molto alto però il dislivello il tacco alla fine sono sui 5 centimetri quindi quasi come non averle mi sono leggermente larghe quindi forse ci metterò una una soletta però per il resto anche l'accetto che quando c'è andato mi da problemi non mi tira più di tanto non mi tira non è che non mi tira più di tanto non mi tira quindi sono comodissime e sono veramente veramente belle 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 infine l'ultimo paio ho preso queste qui e quanto sono adorabili ma quanto sono adorabili queste sono di mod cloth e infatti sono stata una scema a comprarle costavano una trentina di dollari quindi considerato i costi di mod cloth il problema è che essendo scarpe lo sapevo me lo aspettavo in realtà ma essendo scarpe possono essere fatte di pelle comprare pelle fuori dell'armione europea è una rottura o anche qualcosa che ricordano la pelle perché tu devi firmare delle dichiarazioni in cui attesti che quello che compri non viola la dichiarazione di Washington riguardo alla caccia di animali e quindi pellami vari bla 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 quindi mi è arrivata a casa la comunicazione io ho dovuto firmare dichiarare firmare ho dovuto dichiarare anche tutti i valori tutto quello che c'era dentro perché dicevano anche che non erano specificati e e quindi dopo ci ho messo un po' di più sdoganali ho beccato comunque la dogana ma quella con mod cloth me lo aspetto sempre e e quindi però sono carinissima ancora non le ho messe perché con questi giorni sono arrivata una settimana fa e con questi giorni queste giornate piove e basta quindi non mi pare il caso di mettere delle scarpe scamosciate quasi semiaperte però questo taglio è molto comodo perché comunque non mi stringe il piede taglia un po' forse la caviglia però comunque sono molto carina che c'è? sarà la mia sorella che mi storba sempre da mod cloth ho preso questa maglietta che è adorabile ho approfittato di uno sconto del 20% mi pare che mi avevano dato perché per incentivarmi all'acquisto mi è arrivata una mail è funzionato quindi 20% di sconto l'ho presa ed è tipo marinaretta con la manica corta tutta profilata davanti ha il fiocchetto e dietro ha il colletto che continua proprio il colletto morbido che continua anche dietro è molto larga mi sta molto larga però mi piace molto come cade addosso e penso che provarò a metterla al momento con un maglioncino in modo che il colletto esca fuori e faccia l'effetto marinaretto che carina e ho fatto un altro ordine da ASOS quello dove ho preso le scarpe che abbiamo mostrato prima e ho preso questi pantaloni di un colore che generalmente non uso mai perché non mi piace si sto scherzando in realtà sempre il solito colore adesso sono tutti smolli perché ho un po' li ho indossati però hanno un colore bellissimo ovviamente sono skinny vanno giù stretti fino in fondo sono un po' lunghini quindi dovrò accorciarli probabilmente anche se al momento li ho portati risvoltandoli e mi piacciono tantissimo perché in genere gli skinny che prendo poi smollano molto e invece questi a regola rimangono anche abbastanza sono molto elasticizzati e rimangono comunque abbastanza aderenti ho cercato di gisveli mi consiglio anche perché comunque è un colore abbastanza cioè il jeans colorato il pantalone colorato che però non è troppo vistoso troppo eccessivo quindi penso sia molto versatile e cambiando completamente gradazione di colore ah no non è vero ho portato di nuovo una camicia di questo colore e con i cuoricini cioè io questa non la potevo lasciare lì camicia cuoricini borgogna no mia penso sia proprio ispirata a quella famosissima che ha buttato fuori Barberry la stagione scorsa insomma comunque sì che ormai si vede in ogni salsa in ogni copia però sono carinissima è un tessuto abbastanza leggero però chiaramente sintetico quindi però mi piace molto come cade soprattutto dalle spalle che in genere le camicie mi scendono giù soprattutto quelle di Asos invece questa è perfetta almeno a me piace tantissimo con i cuoricini voi ciao era mia e niente questo è tutto il mio bottino di gennaio mi sono lasciata un po' andare con le scarpe vabbè ma comunque al solito spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se avete approfittato dei saldi io in realtà non sono brava ad approfittare dei saldi perché quello che mi piace generalmente lo compro sull'onda del momento e quindi a parte le scarpe di Mr. Fire e qualcosina che ho comprato a febbraio quindi vi farò vedere più avanti direi che più o meno non sono brava ad approfittare dei saldi fatemi sapere se voi avete fatto degli affari e anche per questa volta è tutto e alla prossima ciao grazie 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 grazie